ecco il secondo video, nel primo video abbiamo visto come effettuare il clip adesso andiamo a gestire questo uso del suolo e andiamo subito ad aprire la tabella per capire quali sono i campi che ci possono interessare per fare una classificazione il DUSAF ha una particolare codifica che mi permette di avere questi numeri che corrispondono a un codice che viene decodificato il primo numero riguarda tutta l'area urbanizzata poi il secondo numero cambia da residenziale a industriale poi il 3 sono i cantieri, l'1 e il 4 sono i giardini poi parte col 2, seminativi semplici, colture agricole e così via il 3 poi sono i boschi quindi se ad esempio noi andassimo a fare una leggenda in base alla colonna description oppure facciamo quella completa facciamo classify ci esce un risultato di questo genere con però tante tante informazioni se noi ci teniamo un massimo di 10 elementi in leggenda questo non va molto bene quindi adesso cerchiamo di capire come effettuare una leggenda una rappresentazione grafica molto più leggibile una cosa che si può fare è andiamo nelle proprietà e gli diamo un colore prima di tutto graduato tipo dal marrone al verde cancelliamo tutto facciamo delete all se facciamo applica ci viene fuori che i primi codici hanno una certa colorazione poi ci sono gli altri codici e poi via via avere una definizione di colori diversa però ad esempio vediamo che i bacini idrici sono molto simili ai cespuglieti quindi potremmo fare una cosa di questo genere li selezioniamo entrambi e gli assegniamo col tasso destro change color un colore poi a tutta la vegetazione gli diamo un altro colore tipo questa prati, stabili, colture, seminativi semplici gli andiamo a dare tutto un altro colore poi qua parchi, giardini, aree sportive gli diamo un colore verde così cantieri, aree degradate diamo un colore tutto sul grigio marrone reti ferroviarie reti stradali gli diamo un colore tipo rosso poi cosa c'è impianti cimiteri insediativi questo qua di solito si usa un colore sul viola per le aree industriali e tutto quello che è residenziale gli diamo a dare un colore sul grigio con in particolare un colore un po' più scuro su il consolidato che sarà comunque il centro storico questo probabilmente è il centro storico di Corbetta ok salviamo con nome Corbetta Style comunque se noi avessimo avuto tutta la provincia tutta la regione questa classificazione poteva anche diventare lunga allora ci sono due metodi il primo metodo è se apriamo la tabella possiamo utilizzare il comando la funzione subst per incominciare a alleggerire questo codice mettiamo che noi vogliamo tenere separati i seminativi dai boschi dalle aree industriali questo procedimento si fa in questo modo iniziamo l'edit schiacciamo il pallottoliere creiamo una nuova colonna e la chiamiamo livello A il tipo deve essere text in questo caso perché identifica si vede subito la differenza tra numero e stringa perché la stringa sono allineati a sinistra quindi identifica è un testo e quindi il livello A da cui vogliamo estrarre la prima cifra di questo codice identifica è livello A sotto string ci sono diverse funzioni e quella che noi dobbiamo usare si chiama subst cosa ci dice subst subst che adesso ci dice espressione non valida ma adesso andiamo a completarla la sintassi è subst stringa quindi la stringa è identifica possiamo cercarlo anche qua identifica non lo prende identifica poi ritorniamo su subst per vedere la sintassi start position di solito è 0 e lunghezza 1 quindi andiamo a prendere il primo numero per un carattere e poi ci fermiamo qua non ci da ancora nessun risultato perché si a volte la posizione iniziale non è 0 ma è 1 quindi lui come esempio ci prende sicuramente il primo noi ci spostiamo all'1 e andiamo avanti al primo carattere andiamo avanti di 1 ad esempio se la lunghezza se volessimo prendere l'1 e il 4 partiamo dall'1 e li mettiamo per due caratteri oppure possiamo per tendere il 4 e il 2 possiamo partire dal 2 e prendere altri due caratteri adesso noi vogliamo partire dall'1 e prendere un carattere per fare il livello A possiamo anche copiarla perché dopo ci servirà ancora e schiacciamo ok questo ha fatto il livello A cosa succede con questo livello A facciamo salva possiamo fare duplica questo lo riluminiamo con pg.zusa corbetta live A ok e nella categoria invece della colonna completa mettiamo livello A cancella tutto la colorazione diventa più semplice e ci individua subito queste 4 grandi categorie ci mette il 3 che erano i boschi possiamo mettere anche questo il 5 era bacini nitrici quindi mettiamo questo il 2 è seminativi e così viene fuori subito una colorazione più semplice da gestire però noi abbiamo visto che l'area urbanizzata come abbiamo visto prima è molto più dettagliata cioè ci sono anche dei parchi e giardini noi stiamo colorando dei parchi e giardini di grigio quindi dobbiamo scendere come livello al diciamo al secondo livello quindi non ci passa più il livello A ma dobbiamo scendere livello B almeno solo per l'area urbanizzata è facile anche farlo per tutti quindi facciamo un livello B quindi live B sempre stringa incolliamo quello che ok non me l'ha incollato ho copiato qualcosa altro diverso string subst eccolo qua recent field eccoli qua ce li abbiamo in recent identifica uno e adesso ci spostiamo di due facciamo un duplica questo non è più il livello A ma il livello B e lo stile non è più livello A livello B classify e ci da tutta questa rivoluzione abbiamo visto che l'area urbanizzata si è definita ma anche gli altri solo che gli altri non ci interessava molto ridefinirli quindi il nostro obiettivo era definire ulteriormente quest'area grigia quindi andiamo su general creiamo la nostra query quindi live A uguale 1 adesso ci sta dando solo l'area 1 qui i simboli in leggenda saranno molti di meno e adesso ci viene dettagliato solo l'area urbanizzata che noi possiamo andare anche a cancellare qui e avere il vuoto quindi a livello A il 2 che è seminativi possiamo andarlo anche a scrivere qua nell'etichetta seminativi il 3 aree boscate il 4 aree idriche andiamo a dettagliare questi questo diciamo secondo livello per fare qualcosa di più se noi apriamo la tabella vediamo che 1 4 si l'1 4 corrisponde a parecchi tipologie diverse ma se a noi non interessa dobbiamo cercare di fare una classificazione che mi dice ok l'1 4 non è sia in pianti sportivi aree verdi anincourt parchi giardini ma semplicemente aree verdi questa operazione è vero si può fare con con molte più informazioni e la procedura più semplice per creare una tabella che dopo andremo ad attaccare col join e cominciamo a salvare facciamo un dissolve di pd corvetta live b il dissolve è per la descrizione completa questo in effetti non lo utilizzeremo come shape file video giovetria ma come tabella quindi scriviamo tabella descritt dusaf livello b descrizione non aggiungiamo il risultato a si probabilmente tb live b vediamo se a non possiamo creare proviamo a metterlo da un'altra parte no non possiamo proviamo a fare un salvataggio un salvataggio as tb no questo è pg live b add allora questo qua lo fa perché adesso non fa il do il dissolve pg live b per descrizione no per completa browse yes ok adesso l'ha fatto sì probabilmente perché non faceva il dissolve su non faceva il dissolve sulla sull'interrogazione lo ship file che abbiamo creato è questo e lo portiamo dentro la nostra cartella non l'ha portato dentro però a noi quello che ci interessa è esattamente questo e noi portiamo dentro quello e buttiamo via tutto il resto ok chiudiamo il tutorial e per dopo fare il di Grazie a tutti